La montagna Spaccata Siamo qui all'ingresso della montagna Spaccata Ci siamo attrezzati per la nostra sicurezza Ora ci addentriamo all'interno Ecco, una visione tipo il Signore degli Annelli Con quei paesaggi così crocciosi, le cascate L'immagine è abbastanza di impatto Fa un po' paura suggestiva l'immagine qua E' un po' paura Aspettiamo avanti Ciò che è pompido, è pompissimo Questa è una scala costruita proprio durante l'erosione Calcare Fatemi calcare Ci sono i resti delle antiche travi I buchi della roccia Sono i resti delle antiche travi della scala di legno Che era stata costruita qua all'inizio E' una cosa assolutamente meravigliosa E' difficile da descrivere Anche perché qui si è un'emozione E' davvero forte Siamo arrivati sulla cima della montagna spaccata Qui il percorso non ci permette di continuare Perché ha nostro rischio e pericolo Però noi non ce ne prega niente Infatti adesso torniamo indietro Se andiamo a mangiare una bella pepe di strudel Giù ristoro